Prima un tuffo nel passato per ricordare i tratti in comune fra Bettino Craxi e Aldo Moro, poi un incontro con i giovani per parlare del riformismo craxiano. Due appuntamenti a distanza di un'ora, sempre nell'Università di Bari, per Stefania Craxi, sottosegretario agli esteri. Durante l'incontro organizzato dall'Associazione Critica Sociale, il senatore del PDL Gaetano Quagliariello ha ricordato proprio quanto Craxi e Moro siano stati importanti per la storia del nostro paese. In modi diversi hanno cercato entrambi uno sbocco del sistema politico verso una democrazia dell'alternanza. Moro lo ha fatto attraverso la terza fase, Craxi l'ha fatto attraverso la proposta della riforma costituzionale, la grande riforma del 1982 che ancora non si è realizzata. Ma entrambi partivano da dei principi di fondo che erano molto vicini. Erano certamente in politica estera degli Atlantici, erano entrambi anticomunisti e entrambi credevano nella preminenza della persona umana e nella centralità della persona umana nella vita sociale e nel fatto che la persona venga prima dello Stato. Forse per questo si sono poi tragicamente ritrovati e si sono parlati nei giorni tragici della prigionia di Aldo Moro. Stefania Craxi è stata poi relatrice del convegno organizzato dal coordinamento provinciale di Bari di Giovane Italia, un incontro che l'ha particolarmente emozionata. Devo dire che è la cosa che mi emoziona di più di tutti gli incontri che faccio. Trovare dei ragazzi di venti, non ancora universitari, non ancora adulti, che tributano omaggio ma anche solo hanno curiosità verso la figura di Craxi, devo dire che mi apre il cuore e vuol dire anche che il lavoro fatto in questi anni per restituire onore e meriti a un uomo che ha lavorato 40 anni per il suo paese non è stato inutile.